Maggiolini & Co. è una rassegna di mobili intersiati a cavallo fra il 7 e l'Ottocento. Quando noi parliamo di intarsio nella Milano neoclassica non possiamo non parlare di Giuseppe Maggiolini, senz'altro l'esponente più noto. Giuseppe Maggiolini viene chiamato alla corte di Ferdinando d'Asburgo a Milano agli inizio degli anni 70 del Settecento quando l'Arciduca si insedia nella città meneghina. In questo contesto Giuseppe Maggiolini ha l'opportunità di trovarsi a lavorare e a collaborare con i grandi artisti che vivono e abitano la corte illuminata di quegli anni. Fra i tanti ci sono pittori come Appiani Levati e dei grandi ornatisti fra cui i più noti senz'altro sono Giocondo Albertolli e Agostino Gerli. Agostino Gerli arriva in Milano da un'esperienza importantissima di sei anni trascorsa all'atelier di Onore Ghibert nella realizzazione del Petit Trianon di Versailles, uno degli ambienti neoclassici più importanti per la storia dell'arte. Giuseppe Maggiolini ha così l'opportunità di imparare e di apprendere quella che è una composizione raffinata dalla stesura dell'ornato di intarsio sui propri mobili e nello stesso tempo di raffinare la propria tecnica di esecuzione dell'intarsio in modo da raggiungere dei virtuosismi che nessun altro riesce in quegli anni ad ottenere. Questa fama e capacità sono quelle che gli permetteranno nel tempo di mantenere viva la propria bottega anche alla caduta e alla partenza della Ceduca Ferdinando con l'arrivo delle truppe napoleoniche quando Maggiolini perderà gran parte delle proprie commesse. In questo modo lui riuscirà a rinnovarsi e nello stesso tempo mantenere la propria peculiarità dell'intarsio perché la sua fama è talmente grande che diventa anche promotrice di quelli che sono i contemporanei che diventano anche degli imitatori. Un'altra dote che dobbiamo riconoscere a Maggiolini in quegli anni è quella di essere un formatore. Noi infatti sappiamo grazie ad una supplica che Cesare Beccaria scrive per la società patriottica a favore di Giuseppe Maggiolini che egli si definisce insegnante di una scuola dove istruisce 20 e più intarsiatori. L'importanza della bottega di Giuseppe Maggiolini è testimoniata anche dal confronto con la produzione di ebanisti a lui coetanei. Emblematici infatti sono il caso delle botteghe di Giuseppe Colombo detto il Mortarino e dei fratelli Cassina, Francesco detto il Volpino e Giuseppe. Negli anni 70 del Settecento infatti queste botteghe realizzano delle opere ancora di gusto pienamente rococò a un'altezza cronologica nella quale invece Maggiolini inizia già ad aprirsi nei confronti del gusto internazionale neoclassico. Solamente più tardi nel corso dell'ultimo decennio del secolo queste botteghe si adeguano al nuovo gusto. È il caso della nostra ribalta attribuita al Mortarino già Barbiano di Belgioioso, committenza certa grazie allo stemma familiare e alla croce simbolo del cavalierato di Malta intarsiati sull'anta della ribalta o del tavolino firmato dai fratelli Cassina, opera di altissima qualità sia per la decorazione che per l'architettura. Ma come si diceva la bottega Maggiolini fu importante anche per gli artisti che qui si poterono formare. In questa occasione infatti possiamo presentare alcune delle opere del celebre monogrammista GBM, oramai conosciuto come Giovan Battista Maroni. Attivo con una propria produzione indipendente già alla fine dell'ultimo decennio del secolo, la capacità di Maroni fu quella di mantenere dei contatti lavorativi con personalità del calibro di Agostino Gerli, che dovette aver conosciuto durante il proprio apprendistato presso la bottega di Parabiago, e di organizzare una bottega in grado di proporre una produzione diversificata, costituita sia da mobili raffinati per una committenza d'elite, è il caso della nostra comode siglata GBM, sia di arredi invece più commerciali. Molto importanti sono anche le personalità di Antonio Mascarone, artista ancora in fase di studio ma presumibilmente allievo di Maggiolini, che qui presentiamo con un tavolino intarsiato, e di Luigi Mascaroni, che supponiamo potesse essere il figlio di Antonio. Luigi in particolar modo può essere definito con l'appellativo di pittore del legno, perché la sua produzione a noi è costituita da pannelli di legno intarsiati, tutti firmati, derivati da stampe incisioni piuttosto che disegni. Questa mostra è anche un'occasione per presentare una novità su questo artista, ossia un pannello recentemente riscoperto, conservato presso la chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano di Bergamo, che raffigura la benedizione dei fanciulli, desunta dall'omonimo affresco realizzato da Giuseppe Diotti all'inizio degli anni 30 dell'800 per la cattedrale di Cremona. I nostri pannelli qui esposti in mostra, seppur non più di soggetto religioso ma di soggetto mitologico, raffigurano infatti divinità della mitologia greco-romana, mostrano delle strette tangenze dal punto di vista dell'impostazione e anche dal punto di vista della modalità lavorativa. Tra gli allievi ancora non noti di Giuseppe Maggiolini venne uno che abbiamo cercato di raggruppare con una serie di opere grazie alla scoperta di un segreter che stiamo presentando in questa rassegna. Si tratta di un gruppo di opere che sono state più volte pubblicate attribuendole in vecchie edizioni a Giuseppe Maggiolini o a vicini allievi suoi. Questo perché la qualità tecnica dell'esecuzione di questi arredi è molto alta. Vi sono però delle caratteristiche che la distinguono, che andiamo a presentare in mostra. La più importante è il fatto che l'intarsio viene eseguito con una tecnica molto più vicina all'incisione, l'incisione sull'astra, che non a quella della tarsia cinquecentesca che avvicina le tessere come faceva Giuseppe Maggiolini. Ci è piaciuto però riuscire a racchiudere questa nuova bottega che abbiamo chiamato, ci siamo presi la libertà di chiamare la bottega dei fondi verdi perché un'altra caratteristica è quella di avere questi fondi in acero tinto verde su cui intarsia delle piccole figure mitologiche. Siamo così contenti di chiudere questa mostra con in realtà un'apertura a quelli che potranno essere gli studi e gli approfondimenti per la storia del mobile italiano. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!